A meno di un giorno dal Via al Raduno per la stagione 2019-2020, il Real Forte Querceta ha cambiato allenatore. In compressioni tecniche, infatti, hanno portato al divorzio con il tecnico livornese Marco Tosi, proprio in extremis. E così la società della Versilia è corsa immediatamente ai ripari, firmando l'accordo con l'ex allenatore di Ponsacco, Sestri Levante e Ghivi Borgo, Cristian Amoroso, che al suo arrivo al Necchi Balloni ha trovato una rosa di giocatori arricchita, ma non ancora completata. Devo dire che la società ha allestito una buona squadra, stiamo lavorando molto bene, i carichi di lavoro sono importanti. Giovedì abbiamo la prima amichevole con la Cararesse, sarà un test importante. Diciamo che la squadra è stata ben costruita, abbiamo delle buone basi su cui lavorare. Aspetto sicuramente, dal punto di vista di obiettivi, fare meglio dell'anno scorso, questo è normale. Manca ancora un mese al via del campionato, domenica 1 settembre, e qualche sorpresa potrebbe ancora arrivare, come spiega il presidente Nerazzurro, Alessandro Musti, che ribadisce la solidità della società versiliese. Abbiamo definito l'acquisto di Molinaro, Niccolò Molinaro, 97, una mezza punta, seconda punta, proprio nella giornata di ieri. Credo che a questo punto dobbiamo sfoltire un po' la rosa, il mister è contento della rosa che gli abbiamo messo a disposizione, quindi credo che per ora ci fermiamo qua. Un mantenimento della categoria, questo è il nostro obiettivo, per noi la Serie D è praticamente come la Serie A, perché è un campionato importantissimo, un campionato interregionale, quindi Forte, Remarmi e Querceta hanno unito da qualche anno le forze e credo che per noi il mantenimento di questa categoria sia già un successo.